C'è anche l'ex calciatore Giuseppe Bruscolotti, difensore del glorioso Napoli di Maradona, originario di Sassano, tra le vittime del giro di usura scoperto dei carabinieri che all'alba hanno eseguito dei provvedimenti cautelari nella zona occidentale di Napoli. In manette 11 persone, ritenute collegate al clan Baratto Volpe di Fuorigrotta, appartenente all'alleanza di Secondigliano e che avrebbero favorito. I reati contestati a vario titolo sono quelli di usura, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, nonché detenzione illegale di armi comuni da sparo. Tra gli arrestati è anche un carabiniere, il 56enne Giuseppe Bucolo, luogotenente originario di Catania, accusato di corruzione. Si trova ora ai domiciliari come Mario Baratto, 63 anni, Gennaro Scala, 55 anni e Vittoria Trapanese, 48 anni. L'arresto in carcere invece è stato notificato a Umberto Graziano, 35 anni, Michele Scarca, 32 e ad Alessandro, Angelo e Gennaro Volpe, rispettivamente 39, 55 e 41 anni. Parenti di quell'Antonio Volpe, assassinato nel marzo del 2021 a colpi d'arma da fuoco in mezzo alla strada fuori grotta, nell'ambito della faida di Camorra scoppiata nel quartiere contro il clan Troncone. Per Gaetano Stajano, 68 anni e per Patrizio Straiano, 31 anni, è stato invece disposto l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. I provvedimenti cautelari sono stati emessi dal GIP di Napoli su richiesta della Direzione Distrittuale Antimafia Locale. Lunghe e meticolose le indagini che hanno finito per accertare almeno nove casi di usura diffusa tra i commercianti della periferia ovest di Napoli. Tra di loro, appunto, Beppe Bruscolotti, forte difensore del Napoli degli anni d'oro tra 1972 e 1988, e storico capitano azzurro, attualmente gestore di un centro scommesse proprio a fuori grotta. I tassi di interesse applicati dalla malavita sulle somme prestate si aggiravano tra il 25 e il 40%. Grazie. Grazie. Grazie.